ciao e benvenuti in queste 12 pillole di moduli ecco di che cosa ci occuperemo ci occuperemo di vedere alcuni aspetti molto semplici e precisi dell'utilizzo dell'applicazione moduli per somministrare dei test abbiamo dei test che abbiamo archiviato all'interno di un foglio di calcolo può essere excel numbers fogli di google come facciamo a portare i nostri test all'interno di moduli abbiamo creato un modulo andiamo al test scegliamo il titolo della prima domanda copiamo direttamente la cella dopo di che andiamo nella prima domanda del modulo e la incolliamo prendiamo allo stesso modo le risposte in questo caso sono quattro le copiamo tutte insieme ci richiamo alla prima risposta opzione 1 e le incolliamo tutte insieme automaticamente moduli crea la prima domanda con le quattro risposte abbiamo dei test all'interno di un'applicazione di video scrittura come word o pages vogliamo portare questi test in moduli come facciamo copiamo la domanda entriamo in domanda in moduli e la risposte in questo caso sono quattro entriamo nella prima risposta di moduli e le incolliamo automaticamente moduli crea tutte le risposte stiamo creando un quiz con tante domande desideriamo che tutte le domande siano obbligatorie possiamo attivare il check obbligatorio lo possiamo fare per tutte le domande oppure possiamo rendere obbligatorie tutte le domande all'interno di tutto il test altro preferenze rendi le domande obbligatorie vogliamo trasformare un test in un quiz impostazioni quiz trasformi in quiz presentazione mostra barra di avanzamento eventualmente ordina le domande in modo casuale in modo che ogni studente abbia un articolazione diversa delle domande all'interno del quiz e poi mostra un link per inviare un'altra risposta nel caso in cui noi desideriamo che il nostro studenti utilizzi questo quiz come strumento di apprendimento vogliamo installare un componente aggiuntivo che per esempio ci consenta di inserire delle icone all'interno del nostro test andiamo in altro scegliamo componenti aggiuntivi e ci troviamo nel marketplace di g suite da qui possiamo scegliere di vedere per esempio le più votate vediamo che appare flaticon la scegliamo qui abbiamo il processo di installazione in questo caso io avvierei quello di disinstallazione seguite la procedura dopo aver seguito la procedura di installazione chiudete il marketplace di g suite tornate al vostro modulo e trovate questa icona che riguarda i componenti aggiuntivi start scegliamo l'icona che ci piace oppure effettuiamo una ricerca scorriamo insert chiudiamo la finestra di flaticon e vediamo che abbiamo l'immagine qui inserita portiamola prima della domanda e abbiamo inserito un'icona attraverso l'applicazione aggiuntiva flaticon stiamo creando un test ma ne abbiamo creati altri li abbiamo già somministrati alle nostre classi vorremmo prelevare alcune domande da quei test e inserirli qui non dobbiamo necessariamente aprirli copiarli e incollarli ma usiamo la funzione di importazione si trova qui importa domande viene aperto il nostro drive scegliamo il test dal quale importare le domande il test deve essere ovviamente realizzato in moduli precedentemente seleziona ecco che si apre una finestra qui accanto possiamo dire seleziona tutto e vengono importate tutte le domande oppure le scegliamo importa tre domande eccole possiamo ripetere l'operazione che abbiamo appena svolto con un altro test ed ecco quindi che possiamo ricavare un test scegliendo le domande da test precedenti che abbiamo realizzato sempre all'interno di moduli vogliamo inserire una formula matematica all'interno di un test a mia conoscenza non esiste un'applicazione aggiuntiva neanche latex che per esempio funziona molto bene per documenti ma non per moduli come facciamo? beh abbiamo scritto la nostra formula l'abbiamo trasformata in immagine e semplicemente la aggiungiamo attraverso la funzione inserisci immagine spostate il vostro test all'interno di drive dove preferite utilizzate questa icona lo potete assegnare ad una cartella di una classe in modo tale che tutti coloro che hanno i privilegi per accedere alla cartella hanno anche i privilegi per utilizzare questo modulo per esempio i vostri colleghi volete utilizzare moduli per fare in modo che i ragazzi apprendano quindi dovete stabilire la possibilità che il test venga rifatto più volte ma senza che gli studenti possano vedere quali sono le risposte corrette e quelle sbagliate dalle impostazioni nelle informazioni generali disabilitate limita una risposta vediamo in presentazioni ordina domande in modo casuale mostra il link per inviare un'altra risposta e vediamo infine in quiz pubblica voto subito dopo ogni invio in modo tale che i ragazzi possano vedere il punteggio ma senza sapere quali sono le risposte corrette valori in punti non risposte corrette quindi domande senza risposte ecco quello che può visualizzare ogni studente salva gestiamo le risposte dallo stesso test sezione risposte attiviamo il foglio di calcolo che conterrà tutte le risposte crea un nuovo foglio di calcolo si chiamerà con il titolo del test e tra parentesi risposte oppure possiamo inserire le risposte in un altro foglio di calcolo già preesistente naturalmente abbiamo zero risposte facciamo clic su visualizza il foglio di calcolo ecco come si presenta avremo le informazioni cronologiche il punteggio e poi le risposte alle domande notate che manca l'indicazione del nome riferimento del ragazzo perché perché nel test non abbiamo inserito alcun elemento per ricavare i nomi dei nostri studenti per farlo non ci resta che scegliere l'opzione impostazioni raccogli indirizzi email dal momento che siamo all'interno di un'organizzazione l'indirizzo email conterrà il nome e il cognome del nostro studente ed è più che sufficiente se non siamo all'interno di un'organizzazione cioè vale a dire la nostra scuola non ha installato la G Suite gestita a livello di istituto allora dovremmo aggiungere un campo per raccogliere i dati dei nostri studenti dove si trova il foglio di calcolo all'interno del quale sono state inserite le risposte si trova all'interno di Drive e sarà allo stesso livello del test pillole di moduli e pillole di moduli risposte gestiamo il foglio di calcolo in questo caso i ragazzi hanno avuto la possibilità di ripetere il test più volte l'abbiamo ordinato in questo modo da questa linguetta ordina foglio dall'ala Z vediamo che Alex ha rifatto il test tre volte e queste sono le variazioni del suo punteggio e queste sono le date e l'ora che indicano quando ha svolto il test e così vale anche per gli altri abbiamo un bel sistema per vedere qual è il processo attraverso il quale i nostri ragazzi hanno usato il test per apprendere per qualche motivo per esempio per favorire l'autocorrezione vogliamo fornire ai nostri ragazzi un test precompilato con tutte le risposte corrette come facciamo in altro scegliamo genera link precompilato ovviamente dobbiamo inserire le risposte crea link condividi questo link per includere le risposte precompilate perfetto e copia il link adesso abbiamo un link che possiamo fornire agli studenti per avviare un processo di autovalutazione e per oggi è tutto ci risentiamo per altri temi e webinar a a a a a a